In Italia i centenari aumentano. I dati Istat lo confermano. In particolare il Cilento è stata definita la terra dei centenari. Sono infatti otto le donne e sei gli uomini che con un'età media di cento anni rappresentano i longevi 2021. A tal proposito è nato un progetto, precisamente un calendario che ritrae i 14 longevi del Cilento grazie all'idea di Giovanna Avoria, cuoca cilentana. Tra i centenari vi è il cittadino agropolese Luigi Siano, originario di eredita frazione di Ogliastro Cilento, il quale il 22 marzo ha festeggiato i suoi 107 anni. Omaggiato dal primo cittadino Adamo Coppola, tra i centenari presenti nella nostra città, lui è il più longevo. Mi ha raccontato che nella sua lunga vita tre sono le cose che non ha mai dimenticato, la patria, l'amicizia e il primo amore. Come dargli torto? Memoria storica. I nostri anziani sono un tesoro inestimabile. Un abbraccio alle due figlie e a tutti i familiari per questo giorno speciale. Durante un'intervista su blog Zine e rosmarinonews.it, dopo aver preso parte al calendario, nonno Luigi ha dichiarato. Ho affrontato la guerra del 40. La guerra è sempre brutta, ma per chi torna è sempre bello. Conobbi anche una ragazza di nome Maria Teresa, una bella ragazza e me ne innamorai. Non ho mai odiato nessuno e io ricordo tutto della mia vita. Potrei scrivere un romanzo. In guerra ci davano 10 sigarette, ma non ho mai fumato perché il fumo è veleno. Alla domanda qual è il segreto per vivere bene a lungo, Luigi ha risposto, facendomi sempre gli affari miei e mangiando bene, senza ubriacarmi, ma mangiando bene maccaroni e carne. Diversi gli studiosi che si sono recati nel Cilento per studiare lo stile di vita, comune solo a poche altre aree del mondo. Ricordiamo senz'altro Ansel Keys e Jeremia Stamler, ma non sono stati gli unici e chissà questa aspettativa di vita ci permetterà anche in futuro di riconoscere una longevità di cui andar fieri.